Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus e con l'oroscopo della settimana. La settimana che va dall'11 al 17 di settembre, ci sarà una bellissima luna nuova nel segno della Vergine nella giornata di giovedì 14, tra giovedì 14 e venerdì 15. Allora andiamo a vedere come andranno le cose partendo dal segno dell'Ariete. Amici dell'Ariete, continua il periodo indicato soprattutto per il lavoro e questa luna nuova nel segno della Vergine porta delle novità proprio che riguardano la vostra attività professionale. Ci possono essere in arrivo delle soddisfazioni anche molto importanti e quindi dei progetti che prendono decisamente quota. Questo è un periodo in cui avete sempre questa incognita di Marte opposto che semina a zizzania nei rapporti professionali e anche nei rapporti di coppia. Però insomma grazie a questa bellissima luna in avvio di settimana nel segno del leone e poi nella Vergine potete senz'altro ottenere gratificazioni e riconciliarvi anche un pochettino con il partner soprattutto lunedì e martedì con la luna vicina a Venere nel segno del leone. Weekend è però un po' complicato, la luna è vicina a Marte opposta nel segno della bilancia e ancora qualche piccolo problema nei rapporti di coppia potrebbe infastidirvi. E andiamo al segno del toro. Amici del toro è una luna che parla di fortuna, quella nuova che si forma nel segno della Vergine è una luna che parla anche di novità sentimentali perché è ancora alla ricerca di un'emozione e di una vibrazione particolare in questo ultimo scorcio d'estate e quindi giornate molto molto importanti mercoledì, giovedì e venerdì. Attenzione invece all'avvio di settimana che vede la luna transitare nel segno del leone vicino a Venere c'è qualche piccolo problema che riguarda i rapporti familiari anche se dobbiamo dire riuscendo in qualche modo a limitare anche le vostre pretese e cercando un maggiore equilibrio con l'ambiente proprio casalingo, domestico, familiare potreste vivere anche delle belle emozioni e ritrovare anche un po' di feeling con le persone care. Attenzione invece, come già abbiamo detto, alla luna in avvio di settimana è una luna difficile per i rapporti sentimentali e anche quella del fine settimana nel segno della bilancia sembra appiattire un pochettino i rapporti di coppia tutto rientra un pochettino nella normalità, dobbiamo dire quindi dopo le novità portate mercoledì, giovedì e venerdì da questa bellissima luna fortunata nel segno della Vergine e qualcuno di voi potrebbe essere di cattivo umore proprio nel weekend perché certe situazioni sembrano non volersi smuovere. E andiamo al segno dei gemelli. Amici dei gemelli, attenzione alla luna nuova nel segno della Vergine perché parla di casa, parla di famiglia, parla di impegni a cui non potete assolutamente sottrarvi, però la settimana parte nella maniera migliore con questa luna bellissima nell'amico segno del leone vicino a Venere ed è una luna che parla di comunicazioni, che parla di messaggi, che parla di inviti, che parla di incontri, che parla della vostra possibilità di mettere in evidenza le vostre qualità migliori, fatte di simpatia, di comunicazione, fatte anche di allegria perché sarete allegri in quelle due giornate. Poi qualcosa che non tornerà sul lavoro nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, ma poi vi aspetta un weekend assolutamente fantastico. Amore ancora in primo piano per voi, amici dei gemelli, perché è proprio in quest'ultima parte dell'estate che voi potete ottenere il massimo nei rapporti sentimentali, ma questo è un periodo anche di incontri ed è un periodo che può dare il via ad una nuova esperienza sentimentale. C'è tanta passione in questo cielo. E andiamo al segno del cancro. Cari amici del cancro, beh, è una settimana tutto sommato molto molto interessante. Il lavoro sembra andare a gonfie vele. Arrivano delle notizie, arrivano delle comunicazioni che vi riguardano, che vi interessano e che possono aprirvi delle porte inaspettate. Ottima la luna nel segno della Vergine perché deve sostenere un esame, un colloquio di lavoro, per chi aspetta una chiamata anche, no? Ci può essere davvero una grande sorpresa proprio in quelle giornate, mercoledì, giovedì e venerdì, ma anche lunedì e martedì sono giornate molto utili per chi deve incassare somme di denaro, per chi deve concludere un affare. Sembra andare meno bene la sfera sentimentale perché c'è questo Marte che semina zizzania, che sarà poi raggiunto dalla luna nel corso del weekend. Ecco, vi aspetto a un fine settimana difficile proprio per quanto riguarda i rapporti sentimentali, lì deve venire fuori tutta la vostra sensibilità se non volete inasprire alcuni problemi che in questo momento ci sono con il partner. E andiamo al segno del leone. Cari amici del leone, beh, una luna fantastica nel vostro segno lunedì e martedì, è vicina a Venere, quindi ancora l'amore grande protagonista, quindi grande fascino da parte vostra. Se vi piace una persona dovete assolutamente farvi avanti proprio in quelle giornate perché sono giornate molto molto interessanti che possono regalarvi davvero delle emozioni inaspettate. Poi weekend, bellissimo, ma tutta questa settimana comunque sarà favorevole perché anche la luna nuova che si forma nel segno della Vergine, nelle giornate di mercoledì, di giovedì e venerdì, è una luna che può portare delle novità incredibili per quanto riguarda l'aspetto finanziario della vostra vita. Si sbloccano alcuni affari che avevate in mente, che magari vi stavano anche preoccupando perché sembravano essersi arenati. Delle compravendite, anche di beni immobili possono finalmente vedere una soluzione proprio in quelle giornate. Poi weekend assolutamente fantastico, molto bella la luna vicina a Marte, è una luna che vi rende seduttori, ineguagliabili. E andiamo al segno della Vergine. Amici della Vergine, si apre il vostro personalissimo anno astrologico con la luna nuova nel vostro segno, è una luna carica di buoni propositi, che vi fa essere ottimisti sul futuro, perché c'è anche Mercurio nel vostro segno. Voi avete mille idee, avete mille proposte da fare, non vedete l'ora di mettervi in gioco, di iniziare una nuova avventura professionale grazie a questo Giove nel segno del toro, che rende tutto molto positivo quando si tratta di iniziare un nuovo percorso. E allora approfittatene, amici della Vergine, perché questo è il momento in cui potete rilanciare anche dei vecchi progetti, che avevate in mente, che non avevate potuto mettere in pratica, perché eravate bloccati e frenati, da mille problemi e da mille inconvenienti. Ecco, questo è il momento migliore proprio per la vostra attività, per la vostra professione, avete una grande energia, una grande grinta, dovete approfittarne. Un po' meno bene per quanto riguarda l'amore, perché c'è sempre questa venere alle vostre spalle, lunedì e martedì saranno giornate complicate per i rapporti sentimentali, poi le cose cominceranno a migliorare a partire da mercoledì, con un weekend che può essere anche molto sensuale, e quindi dovrete lasciarvi del tempo libero da dedicare proprio all'eros, alla passione. E andiamo al segno della bilancia. Cari amici bilancini, beh, ci sono davvero tante novità che vi riguardano, bellissima luna in avvio di settimana, è una luna che parla di rapporti professionali, sociali, di amicizie, ma anche di rapporti sentimentali, che possono finalmente decollare. Poi vi aspetto un weekend fatto di passione, fatto di eros, fatto di attrazioni fatali, quindi voi dovete stare molto attenti solo a non farvi prendere troppo la mano da questi amori, così, che possono sbocciare anche all'improvviso, soprattutto se non siete singoli, se magari avete delle storie un po' in piedi, un po' no, qui mi riferisco soprattutto ai più giovani, ecco, cercate di valutare con attenzione qual è la strada da percorrere. Il lavoro un po' meno bene, la luna nuova nel segno della Vergine è una luna che vi mette addosso tante insicurezze, che sono amplificate anche da questo Marte nel vostro segno, tante volte non riuscite a capire qual è il momento di azzardare, e allora rischiate di sbagliare, facendo magari un azzardo troppo grande oppure non provandoci nemmeno. Ecco, dovete trovare il giusto equilibrio proprio sotto questo punto di vista. Ma come abbiamo detto, vivrete un weekend davvero fantastico, in cui ci possono essere anche delle schiarite che riguardano il lavoro. E andiamo al segno dello scorpione. Cari amici dello scorpione, beh, l'avvio di settimana non sarà facile, c'è una luna che transita nel segno del leone vicino a Venere, ancora l'amore non vi dà quello che voi desiderate, però c'è questa luna nuova nel segno della Vergine che è un'indicazione di speranza per il futuro, apre nuove porte, apre nuovi scenari. E poi, insomma, questa Venere non sarà negativa per sempre, prima o poi dovrà diventare a voi favorevole, e quindi riuscirete anche un po' a recuperare, ma ci vorrà ancora un po' di tempo. E Marte anche ad amplificare le vostre paure, i vostri sospetti, la vostra gelosia. A proposito, weekend molto delicato per quanto riguarda i rapporti sentimentali con qualcosa che vi disturba e vi disturba parecchio, molto meglio sul lavoro, dobbiamo dire, in cui avete le mani più libere, avete le idee più chiare e potete ottenere anche dei grandi risultati, magari in collaborazione con altre persone. Ma questa luna nuova porta delle novità che riguardano anche il denaro, i soldi, e finalmente potreste ottenere quello che avete sempre desiderato dal vostro lavoro, dalla vostra attività professionale. E andiamo al segno del Sagittario. Amici del Sagittario, avvio di settimana fantastico, bellissimo, amore ancora straordinario per chi è in vacanza, magari ha scelto il mese di settembre per prendersi una pausa, ci possono essere delle novità incredibili, delle sorprese straordinarie. Lunedì e martedì saranno giornate che vi vedranno in grande spolvero proprio, riuscirete a tirare fuori il meglio di voi stessi, ad essere quelle persone, amanti dell'avventura, anche un po' del rischio, certe volte che affascinano le persone che vi stanno intorno a che vi capita di incontrare. Poi attenzione, perché la luna nuova nel Signo della Vergine è una luna che pone l'accento sul vostro lavoro, è una luna che può portare anche degli sblocchi, non è solamente una luna complicata e difficile, magari attraverso qualche piccolo sacrificio potete finalmente incanalarvi verso quella direzione che voi avete sempre auspicato e che sembrava sfuggirvi. E poi c'è un weekend ancora meraviglioso, ancora l'amore grande protagonista, la luna nella bilancia vicina a Marte, grande Eros, grande passione, grandi tentazioni, anche perché è anche di questo che dobbiamo parlare. Amici del Sagittario, occhio a non farvi proprio prendere la mano, anche dalle tentazioni che potrebbero essere molto pericolose. E andiamo al Segno del Capricorno. Amici del Capricorno, Marte nella bilancia è una spina nel fianco, però c'è una bellissima luna nuova nella Vergine, è una luna che parla di nuovi inizi, di partenze, di viaggi, di nuove esperienze, di nuove comunicazioni, di chiamate per il vostro lavoro, che magari possono prevedere anche un rimescolamento di carte, nel senso che probabilmente sarete costretti anche ad apprendere qualche nuova nozione, dovrete fare qualche corso di perfezionamento, dovrete insomma buttarvi anche in esperienze che non conoscete bene, che non vi appartengono fino in fondo, ma che possono regalarvi davvero delle grandi gioie e delle grandi soddisfazioni. E poi per chi ha deciso di partire in queste giornate, soprattutto mercoledì e giovedì, ci possono essere delle sorprese clamorose, anche i viaggi di lavoro possono regalare delle sorprese molto, molto positive. L'amore, l'amore è sempre un grosso punto interrogativo per quanto vi riguarda amici del Capricorno, Marte mette sotto pressione tutte le storie, quelle già in crisi, quelle già in difficoltà, possono veramente vivere dei momenti delicatissimi, soprattutto nel corso del weekend, quando ci sarà anche la luna nel segno della bilancia, e voi dovrete fare ricorso a tutta la vostra razionalità, per non dare in escandescenze, per non aggredire il partner verbalmente, quindi accusarlo, magari delle piccole crisi che in questo momento stanno condizionando il rapporto di coppia. E andiamo al segno dell'acquario. Amici dell'acquario, la settimana si apre con la luna vicina a Venere, opposta nel segno del leone. Anche per voi l'amore sembra essere croce e delizia, perché adesso questo Marte ha aperto nuovi scenari, vi sta regalando anche delle bellissime emozioni, può portare delle novità fantastiche, questa luna può parlare di attrazioni fatali, questa è una luna che vi mette in comunicazione, anche con persone nuove, che può tentarvi con magari un rapporto sentimentale che può nascere per una persona con la quale non avete proprio il giusto feeling a livello mentale, ma l'attrazione, l'eros potrebbe in qualche modo prendere il sopravvento e voi non saprete resistere, però è anche vero che questo è un momento in cui dovete vivervi certe emozioni. Il lavoro ancora così così, che stenta un pochettino a decollare, questa è una settimana un po' farraginosa, per rimettere in moto anche tutto il vostro sistema professionale, professionale, in ufficio c'è qualche lavoro arretrato da portare a termine, c'è qualcosa da risolvere che magari non vi è chiara e su cui dovete indagare per portare le soluzioni che magari anche i vostri superiori o i vostri colleghi si aspettano da voi. Però abbiamo detto, questo per il lavoro è un momento un po' particolare, in cui non avete certezze, in cui avete tanti dubbi, però avete l'energia per uscire fuori, anche da un piccolo pantano in cui siete andati a cacciarvi. E chiudiamo con il segno dei pesci. Cari amici dei pesci, luna nel settore del lavoro lunedì e martedì, è una luna vicina a Venere, quindi sembra esserci armonia nel vostro ufficio, con i vostri colleghi, insomma anche le mansioni che dovete svolgere quotidianamente, beh, le affrontate con il sorriso sulle labbra, e questo è certamente molto, molto positivo. Poi attenzione, perché la luna si fa nuova in opposizione, nel segno della Vergine. Allora è una luna che può portare delle soluzioni che riguardano alcuni conflitti, che riguardano alcune questioni anche legali o burocratiche, ma che può portare anche qualche cambiamento inatteso e repentino in un rapporto di coppia, in un rapporto di amicizia, anche in una collaborazione professionale. E quindi aspettatevi qualche novità che voi dovrete essere bravi comunque a gestire. Weekend, senza grandi sussulti, la luna nel segno della bilancia vicino a Marte porta chiaramente tanto Eros, tanta attrazione fisica, anche nei rapporti di coppia di vecchia data, però insomma quello che latita in questo momento è un pochettino il sentimento, quello che a voi sta più a cuore, il romanticismo. Ecco perché anche questa luna vicina a Marte ogni tanto potrebbe anche inquietarvi, perché insomma vi farete trascinare vostro malgrado anche dall'Eros, dalla passione, ma non è esattamente quello che voi desiderate e questo può creare qualche turbamento. E con il segno dei pesci chiudiamo questo appuntamento coloroscopo della settimana. Le stelle di Azus, come sempre, vi augurano buona fortuna.